In occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, torna in esposizione a Teramo nella sua drammaticità la teca contenente i resti della Fiat Croma, conosciuta come Quarto Savona 15, l'auto di scorta di Giovanni Falcone, fatta esplodere in Sicilia nel 1992. È un groviglio di macerie, visibile a tutti in Piazza Martiri, quello che resta della vittura del magistrato ucciso dalla mafia e dentro la quale morirono dilaniati i tre agenti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Quarto Savona 15 rappresenta il simbolo della crudeltà mafiosa, ma anche quello della denuncia civica. L'evento, sostenuto dal comune di Teramo, rientra nel quadro delle cerimonie del premio nazionale Borsellino, realizzate in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo e la Polizia di Stato. Per l'occasione, presenti in città alcuni testimoni di legalità, tra i quali Tina Montinaro, moglie di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, assassinato insieme a lui. È stata proprio lei a recuperare i resti dell'auto, custoditi per anni nei depositi della questura di Palermo e a volerli esporre in ogni città italiana. Agli studenti intervenuti all'iniziativa, il sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto, ricordando il trentennale degli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino e delle loro scorte, ha ribadito la necessità della lotta alla cultura mafiosa che non deve essere circoscritta ad un territorio, ma deve essere fatta propria dall'intero paese. Grande la partecipazione emotiva dei giovani terramani. Sono rimasta sconvolta dai livelli di cattiveria e fino a che punto si possa spingere una persona per riuscire a zittire qualcuno che stava semplicemente combattendo per la giustizia. Lottare la mafia è molto importante perché noi non dobbiamo arrenderci contro chi prova a combattere e ricattare gli altri attraverso la paura e intimorendo gli altri, ma bensì dobbiamo essere forti e dobbiamo opporci a questi bulli che comunque cercano di incutere timore per usare i deboli per arricchirsi ancora di più. È ovviamente importantissimo lottare contro la mafia anche a costo di andare contro alla maggior parte delle persone, di essere chiamato pazzo come è successo a Falcone e Borsellino ma anche a Peppino Impastato.